Ehi, benvenuti ragazzi in questo nuovo video sul mio canale, io sono Dax SS Tato e benvenuti in un nuovo episodio di Metal Gear 16 di Tantapay, non scherzo. Oggi siamo su GTA 5 online. Ragazzi non vi porto più gli episodi di GTA 5 dalla storia perché praticamente è successo che è un casino, continuava sempre ad andare avanti, però l'audio non si sentiva, sentiva niente, ma non ho capito perché a quel punto ho deciso, vabbè, lasciamo vedere i video di GTA 5, a quanto pare va bene, e quindi ho deciso di fare i video di GTA online, quindi vediamo un po' come va, spero meglio di quello che è successo a me. Siamo in una partita uno contro uno, quindi vedremo un po' di fare del mio meglio, vedrò un po' di fare del mio meglio. Lui non c'è al momento, quindi mi butto, aia, mi ha fatto male. Forse era meglio che non rischiavo. ho fatto il primo di 30 secondi di fallita. Eh, vabbè, qui ci devo fare io. Certo, mi interessa saprei dove è il nemico in questo momento, perché non lo vedo. Eccolo lì. Ma, è FK. Io non voglio uccidere una persona FK, sorry. Eccolo lì. Ah, ecco, guarda se è massimo, è stronzo. Vabbè, io rubo un po' di soldi. E munizioni anche. Soprattutto e munizioni. Ok, mi sono recuperato un giuppato antipriglietti. Dov'è che sta il coso? Ma, io vorrei sapere una cosa. Ma sto... Compare chi sta cercando di giocare. Ma gioca oppure hai l'idea di fare la FK continuo? Ma non lo so. Che ci sta qui? Cos'è sta roba? Testosterone, ok? Bullshark. What? Ma non ha consenso. Gli animi non lo vedo più. Mi sa che questa partita è un po' la molla, eh. Aia, aia. Eh, adesso sei mosso. Oh, era una. Che cacchio. Non vale fare il freddo comunque, fa schifo. Fa schifo come persona. Ok, vediamo qua. Ok. Ok. Qui non c'è nessuno. Per il tanto sapere dov'è il nemico. Aia, aia. E niente, mi ha ucciso. Ok. Lo vedo sulla mappa. Cerco di raggiungerlo. Non lo vedo più. Ok. E' lì. E' sopra. Ove sopra è sotto. E' sopra. Quindi se è sopra... Dovevo avere almeno una lancia granate. Non penso che ci facciamo molto con lancia granate, sinceramente. Eccolo lì. L'ha preso? No, sta sopra. Ok, preso. Che ansia. Ok. Prendiamo quel testosterone che mi sento incuriosando. Che, che, che servono? Aia, aia. E niente. Non l'avevo visto. Vabbè. Vabbè. Cerchiamo di farci ammazzare di nuovo. Come altri. Vediamo un po' dove sta. Dove, 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 dove. No, dove vai? Fermati. Dove va lui? Lui. Aia. Si è fatto male. Però ho recuperato subito la vita, quindi non è tanto un problema. Ma il problema è, dov'è lui? Porca. E' morto. L'ho ucciso dalla tomba. E' morto con me. Vabbè. Andiamo un po'. Qua ci stanno un po' di munizioni, ma non mi serve a molto. Ho combinato un po' di casino, comunque. Caprendo di qua. Sembra che ci sia, comunque. Quindi, vedete che abbiamo, con la parte. Falta un po' così. Vado dietro a sta macchina. Prendiamo un po' che testa serone. Ma che fa? Il testa serone incrementa temporaneamente i danni alla resistenza. Ah, buono. Allora, di là non ci sta. Non c'è. Butto. Non sembra che ci sia. Do'è lui ora? Eccolo là. E' niente. Nonostante. Nonostante voglio il testo serone. Questo è bello. Comunque so dove è andato. L'ho visto dove è andato. Ti può apparire da questa parte. Allora, qui non c'è. Allora, qui non c'è. Eccolo. E' niente. Oh, ci vuole venuti a vento. Non è possibile. Che cacchio. Abbiamo stati venuti, Zempo. Ok, lo vedo. No, no. Che cacchio. Secondo me arriva da dietro. Quindi, battendo questo batte esattamente. Ti direi. Andiamo con lancio granate che è meno più semplice. Che c'è uno. Aia. Ho preso? No. Però era molto vicino. No, wey. Vabbè. Vabbè. Vabbè, Maria. Che diavolo. Perché non riesco più a citerlo? Qua dietro. Andiamo a lanciarlo così. Però l'ho preso. No. Non è possibile. È salito. Andiamo dall'altra parte. Oh. Io ho il mente. ok morto perfetto prendiamo le munizioni ci stanno anche un po di vita quindi se ci gioco la vita sono morto ok quindi siamo assolutamente attenti aia 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 e niente 10 contro 5 mi ha sceso 10 volte non va bene non va bene fortuna è segnata sempre della nota quindi diciamo che ho un po di vantaggio ma stavolta non ce la fai ok uccise ora prendiamo i suoi soldi e le munizioni andiamo qua sopra aia aia meno male c'ho legge un po tanti proiettili quindi diciamo che sono salvo oh perfetto ucciso di nuovo per un uccisione di giocatore in serie positiva non ha alcun senso quello che ha detto però vabbè qui ce ne sarà una ok ho ucciso di nuovo stai sculacciando seee bella lì davanti attenta cosa sono andato a fuoco sono andato a fuoco ma che cazzo eccolo stai andando da sopra porca miseria ce l'avevo davanti non mi sono riuscito a prendere ok è stata quella parte questo salone sul bull shark non non ok 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 schifoso rompi palle ora vediamo dove spagna non mi dà più una mappa giustamente Non puoi aspettare che arrivi di nuovo sulla mappa Quindi dovrei cercarlo io Per i fatti miei E mi sta bene sinceramente Lo devo sententare non farmi ammazzare anche da dietro Perché è da dietro che potremmo prendermi Ok sta da quella parte Non la vedo Ma è quasi morto Ok è morto Ok però mi sa che sto iniziando ad essere segnato sulla mappa Quindi dobbiamo stare attenti Prendo un po' di vita Il TBS è scaduto Quindi Aiaiaiaiaiaiaiaia Non c'è una bucchissima Perché c'è male Perché c'è male che ci chiamano sempre di prendere qualcosa E la racconto però Scrivono la racconto Ok sta arrivando dall'altra parte Quindi Ah ma ti targetta praticamente E quindi porta sia vantaggio che svantaggio Ok Vediamo un attimo Ah 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 Lol Ma c***a Non ha algun senso La bucchia del lato Moffa in cima Non ha alcun senso quello che ha detto Uno Due E' stato pure investito Io non sono riuscito neanche a ucciderlo Non è possibile Dai cacchio Mi devo fare ste trollate Attenzione 3, 2, 1 Che pizza E niente La partita è finita Ho perso Però c'ho guadagnato i soldi Dai Non mi dispiace Fa cosa di avere guadagnato i soldi Ho perso E ci ho scommesso anche 30 dollari su di me Quindi ancora perso Che però Penso che non me li abbia valutati Va bene ragazzi Noi ci vediamo nel prossimo video Iscrivetevi al mio canale Lasciate un piaccio Commentate Condicate con i nostri mischi Attivate la campagna Iscrivetevi al canale Che è me sotto In descrizione Rispondete per scena e stondaggi E non vi vedete gli episodi Di Metal Gear E il solito 5 Di Phantom Pain Di Sierra 1 E di Tieni d'occhio Le notifiche Per il tuo progetto Perché le emissioni Unicidio di Metal Gear E le emissioni Lode Apre le comprense Doppie Quindi Vedrò un po' di E noi ci vediamo Un prossimo video Ciao ragazzi Ciao Ciao